Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Momenti di apprensione al centro accoglienza per minori di Senigallia, dove da diverse ore si stanno allontanando parecchi dei profughi minorenni sbarcati al porto di Ancona dalle navi Ocean Viking e Geobarens. È difficile fornire un numero esatto, perché alcuni di loro hanno fatto ritorno, altri sarebbero stati individuati, mentre da altri ancora nessuna conferma. Di sicuro mi dicono che ieri non sono rientrati 11 ragazzi, e noi speriamo appunto che vengano trovati al più presto e mi auguro che non si tratti di una fuga e vedremo. La situazione è in continuo aggiornamento. Dei ragazzi sarebbero stati individuati a Rimini, mentre altri avrebbero amicizie come punti di riferimento in altre città italiane. Sta di fatto che gli adolescenti non sono obbligati a restare nel centro di accoglienza, nonostante sia per loro un percorso di grande sicurezza. Effettivamente Senigallia ha molte possibilità per poter uscire. D'altronde all'interno di questi centri non c'è l'obbligo di una vigilanza, non è che stanno in carcere, quindi hanno ovviamente la possibilità di uscire e quindi questo può aver facilitato anche la possibilità di uscita di questi ragazzi. Quindi è accaduto questo, un permesso di uscita e poi non sono rientrati? Sembrerebbe che durante la mattinata era stato concesso loro la possibilità di uscire, cioè erano usciti e non hanno fatto più rientro nella struttura. Questa è la struttura che ospita i ragazzi, gestita dagli operatori della Caritas. Si tratta di un ex hotel in Piazzale Morandi, siamo a due passi dal mare e dalla stazione ferroviaria e non si può escludere che qualcuno dei giovani sia salito in treno. Tutti avrebbero tra i 15 e i 17 anni e a riguardo va usato il condizionale perché in alcuni casi sono in corso verifiche sull'età dichiarata. I numeri sono un po' vaghi, complessivamente quanti sono i minorenni che sono arrivati a Senigallia? Noi ne aspettavamo 28, credo che ne sono arrivati di più, 39 o 40. Questo significa una gestione un po' più complicata? La Caritas in quella struttura lì ha una struttura che è capace di riceverli e del personale preparato, quindi credo che l'abbiano sopperita. So che c'erano alcune camere solo che erano riscaldate, ma credo che poi hanno sopperito con altri sistemi. Cosa significa politicamente questa fuga? Questa fuga non ha una valenza particolare. Quello che significa è il fatto che noi rappresentiamo i territori di passaggio. Io credo non è tanto la fuga insieme, ma proprio per tutte queste persone che fuggono è che il miraggio spesso e volentieri è il nord Europa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.